Gentili telespettatori, buona giornata. L'incoerenza in politica è una caratteristica fondamentale. Perché incoerenza? In realtà i politici sono coerenti nell'inseguire i voti e quindi risultano incoerenti visto che cambiano continuamente, non opinione, cambiano direzione a secondo quello che gli conviene. E qui parliamo della mitica Virginia Raggi, il vento del cambiamento che i romani hanno visto a Roma e che vogliono andare ancora a votare. Incredibile, ma vero. Tutto per muri ideologici, per non far vincere la destra, la sinistra, la destra. C'è da mettere a posto Roma, non c'è da votare i partiti. Liguori alla Raggi dice, ma come? No alle Olimpiadi e ora sì all'Expo? Eh beh, parlavamo proprio di incoerenza ai fini elettorali. Il giornalista di media, sette ospite della puntata del 29 settembre di Stasera Italia, Rete 4 di Barbara Palombelli. Dice, a quattro giorni dalle elezioni trovo poco elegante parlare sulla sindaca, lo sappiamo che non è stata una buona sindacatura, dice. Dico solo una cosa che mi ha colpito più di tutte, l'incoerenza, il passaggio da una posizione a un'altra con una grande faciloneria. Eh beh, la faciloneria è una caratteristica. Vediamo un po'. Che cosa? La faciloneria è un atteggiamento o comportamento eccessivamente confidente e ottimistico che denota superficialità o scarsa preparazione. Atteggiamento che denota superficialità o scarsa preparazione. Noi possiamo dire che i grillini sono superficiali e scarsamente preparati? Eh caspiterina, eh direi proprio di sì. Quindi il termine faciloneria utilizzato da Paolo Liguori è un termine assolutamente corretto. Siamo andati adesso a vedere sul vocabolario la definizione di faciloneria. Un termine poco usato e ormai in disuso. E Liguori dice, lei ha detto no alle Olimpiadi a Roma dicendo che sarebbero state le Olimpiadi del mattone e della speculazione. Poi ieri lei ha applaudito l'annuncio di Mario Draghi sull'Expo. Lo ha applaudito a quell'annuncio, ma avrei voluto pure le Olimpiadi che saranno una grande occasione per Milano. Questo passaggio di posizioni è dovuto a fatti radicalmente cambiati in Italia e Roma? Oppure ci tratta da bambini? Ma no, caro Liguori, non è che la Raggi o i Cinque Stelle trattino gli altri da bambini. Il fatto è che loro sono dei sempliciotti, utilizzano la faciloneria, sono persone impreparate, sono persone non competenti e l'incompetenza e l'impreparazione fa sì che in un confronto televisivo, in un confronto politico, loro cambino opinione senza rendersi conto che lo stanno facendo, senza rendersi conto quello che succede, le dinamiche in loro stessi e il perché stanno cambiando opinione. Quindi, caro Paolo Liguori, in politica nel 2018 è arrivata la superficialità, l'incompetenza, la faciloneria. Una gran parte di italiani ha creduto nel comico genovese, nel suo canotto, i vaffa, vaffa di qui, vaffa di là, l'antisistema grillo con un movimento rivoluzionario che doveva far sloggiare la politica, quella schifosa, e mettere degli angeli in politica, delle persone idilliache, quasi con un alone, una luminosità intorno eccezionale. In realtà sono arrivati in Parlamento, nei comuni, nelle istituzioni, semplicemente delle persone comuni, non lì per curriculum, per meriti accademici, per meriti lavorativi, per meriti scientifici, per aver militato ed essere riusciti a diventare politici dopo tanti anni. Sono arrivati lì semplicemente perché si sono attaccati al treno che correva veloce verso il Parlamento. Un'occasione unica. Qui si sono arrivati ad essere politici persone come la Raggi, che neolaureata faceva la tirocinante in uno studio di avvocato. Niente di male, ci mancherebbe altro. Insomma, laureata fa il suo tirocinio che ti prepara poi a fare l'avvocato, ma esperienze di lavoro quasi nessuna, se non aveva fatto qualche lavoretto così, ma vere esperienze di lavoro in grandi aziende, multinazionali, esperienze di politica, no. È stato preso il treno che portava in politica. E come lei tanti altri grillini che hanno riempito il Parlamento di superficialità, di incompetenza, di faciloneria. C'è chi era disoccupato, chi viveva con i sussidui dello Stato. Molti facevano dei lavoretti, ad esempio da 3-4 mila euro all'anno lordi. Insomma, questo non vuol dire parlare male di queste persone, ci mancherebbe altro. Quante volte io stesso mi sono trovato a fare lavoretti per tirare a campare. Io quando ero giovane sono andato a lavorare in un canile, un giorno. Sono andato a lavorare al Burghi, a Dormelletto, a Castelletto Ticino. Una volta c'era il Burghi a Castelletto Ticino. Tre ore ho fatto. Ho fatto il postino, ho fatto il muratore con mio zio, ho fatto l'operaio alla Saes Getters a Linate, a Linate, a Linate. Ecco, ho fatto tanti lavoretti. Immaginatevi se io ai tempi, non so, appena finito di fare il geometra, fossi diventato sindaco di Milano. Immaginatevi, immaginatevi io magari a 25 anni che stavo facendo dei lavoretti così, che stavo cominciando l'università, mi fossi diventato sindaco di Milano con la fascia tricolore. Sarei stato ovviamente un disastro, no? Sarei stato senza né arte né parte. Come potevo io, avendo poche conoscenze di lavoro. Già rispetto alla Raggi io avevo già fatto tanti lavori, avevo già esperienza, però immaginatevi queste persone che arrivano in politica senza sapere niente di politica, senza sapere niente di amministrazione pubblica, senza avere studi o avendo studi ma senza esperienza. Questo gli italiani lo hanno pagato in questi cinque anni. Abbiamo avuto al governo i grillini per quasi cinque anni. Abbiamo avuto al governo di grandi città persone senza esperienza, senza nulla, senza basi sulle quali poter lavorare. E questo, caro Paolo Liguori, è il risultato. Però ancora pochi giorni per i venti del cambiamento e poi ancora magari un anno e mezzo per poter andare alle elezioni e poter ridurre la faciloneria che c'è nel Parlamento. Grazie a tutti e arrivederci.